O la terza parte sarà quella che in realtà vi darà un po' di respiro, perché nel senso sono sicuro che arrivati a questo punto vi sarà venuta un po' d'ansia, nel senso che avrete alla percezione che questo diritto d'autore ce ne sia troppo, passatemi il termine, cioè che ce ne sia di più di quello che vi eravate finora immaginati. Soprattutto questa cosa dei diritti connessi, che molti sottovalutano, e invece no, purtroppo il diritto d'autore è molto ampio, molto complesso come materia, però ecco per fortuna vedete, cioè è vero che effettivamente ce n'è tanto di copyright e che tendenzialmente in virtù di quell'articolo 6 scatta automaticamente e quindi è un by default, cioè per definizione di base io devo considerare l'opera sotto diritto d'autore. Cioè se l'opera non l'ho fatta io, l'ha fatta qualcun altro, l'effetto qual è? L'effetto è che sostanzialmente tutto è sotto copyright, no? Tutto ciò che io trovo in rete, tutto ciò che io trovo in giro, c'è sempre un copyright, perché a parte che c'è scritto quasi sempre, se ci fate caso, c'è sempre una noticina in fondo, anche se scritta piccolo, nel footer del sito o nella pagina nascosta del libro, del cd, c'è sempre copyright 2018, il nome dell'autore o del titolare dei diritti, quindi tendenzialmente c'è sempre copyright, anche sulle cose che si trovano online, cioè se una cosa è online non vuol dire che è libera da diritti d'autore, questa è un'altra leggenda metropolitana, immagino che in questa sede nessuno di voi ci sia davvero cascato, però lo vedo fare ancora, anche appunto tra gente che ha titoli di studio abbastanza elevati, che insomma cade in questa leggendone e pensa che se una cosa si trova su internet, allora tanto se è lì vuol dire che si può usare, no, non è assolutamente così, la regola rimane la stessa, che siamo su internet o che siamo fuori da internet, cioè la regola è che se qualcosa è stata creata da qualcun altro e ha un minimo di carattere creativo, ha un copyright, a meno che, a meno che, eccoci qua, siamo arrivati alla scadenza di quei diritti, la scadenza dei termini, abbiamo detto che durano 70 anni dalla morte, i diritti d'autore, i diritti connessi, non vi ho detto le varie scadenze perché se no non uscivamo vivi, era un po' complesso perché ogni diritto connesso ha la sua durata, però tendenzialmente quelli discografici durano a loro volta 70 anni dalla data di incisione, quindi in un'opera musicale presa da un cd abbiamo il diritto degli autori che scade 70 anni dalla morte e il diritto del discografico e degli artisti interpreti e esecutori che scadono invece 70 anni dalla data di incisione, quindi già lì dobbiamo farci un bel conto. Scaduti tutti questi termini, allora finalmente l'opera si può dire che è in pubblico dominio, eccolo qua, un copyright barrato, cioè è finito, l'opera in pubblico dominio vuol dire che siamo liberi di utilizzarla senza dover chiedere il permesso. È una situazione un po' binaria, un po' acceso-spento, tutto copyright o tutto fuori dal copyright, è come se qua ci fosse una riga e mezzo e io devo passare dal bianco al nero di colpo. Per fortuna non è così, cioè non è così netta e rigida la situazione perché infatti la legge ci ha già pensato. La legge ha già pensato a ammorbidire questa, sfumare questa situazione, creando delle situazioni di libero utilizzo. Vedete, libero utilizzo che ha due gambe come schema, libero utilizzo stabilito dalla legge, cioè la legge prevede che in alcuni casi l'utilizzatore possa prendersi delle libertà senza dover chiedere il permesso ogni volta, se no sarebbe insostenibile. Però, da qualche anno a questa parte, che poi ormai sono 18 anni, da quando esistono le licenze creative commons e altre licenze simili, è possibile che il libero utilizzo abbia una radice, abbia una base sulla scelta dell'autore o del titolare dei diritti. Cioè, è lo stesso titolare dei diritti che rilascia la sua opera in un regime più libero, cioè applica una licenza di quelle open, che dopo vi farò vedere, e grazie a questa scelta gli utilizzatori possono prendersi in maggiore libertà. Ok? Quindi, libero utilizzo crea un'eccezione che può essere o avere, diciamo, fondamento o in una norma di legge, che adesso vi faccio vedere, ne faccio vedere alcune perché sono troppe, però vi faccio vedere le principali per la didattica, oppure può essere la fonte, diciamo, il fondamento di questo libero utilizzo può essere una licenza, cioè un atto contrattuale che il titolare dei diritti, che è tendenzialmente o l'autore o l'editore o il produttore, mette sull'opera. Prima di arrivare a questa parte blu dello schema, fatemi però dire due cose sul pubblico dominio, perché sembra un po' semplice. Cioè, ah sì, sono scaduti i diritti e quindi diventa libera. Eh, però non è che è sempre così semplice capire quando sono scaduti i diritti, no? Cioè, allora, questa è la versione semplice. Il pubblico dominio crea una situazione di nessun diritto riservato e quindi è un liberi tutti, tutti possono utilizzare senza dover chiedere il permesso. Salvo, ricordatevi, quella cosa dei diritti morali, per cui i diritti morali possono sempre tornare ogni tanto a farsi sentire. Però, ecco, il pubblico dominio si manifesta in queste tre forme, almeno nella legge italiana. Un pubblico dominio per legge, public domain by law, cioè alcuni casi in cui la legge esclude dal diritto d'autore alcuni tipi di opere. In Italia abbiamo un caso abbastanza ristretto, l'articolo 5 della legge prevede che i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni siano fuori dal diritto d'autore. Quindi, se volete riprodurre, non so, un testo di legge, una sentenza, una delibera comunale, non dovete chiedere il permesso al giudice che ha scritto la sentenza o al sindaco che ha fatto l'ordinanza, no? Però tutto il resto, i materiali che trovate sul sito del comune, che sono foto, che sono video, che sono brochure, quella roba lì è ancora sotto copier perché non rientra nel concetto di atto ufficiale. Quindi, atto ufficiale, il classico esempio è proprio la sentenza di un giudice. Noi avvocati ci avvantaggiamo spesso di questo pubblico dominio perché quando facciamo pareri così spesso preleviamo pezzi interi di sentenze e non dobbiamo chiedere il permesso. Il punto C lo vedremo dopo, lo vedremo meglio dopo, cioè è un caso in cui attraverso una sorta di licenza, che non è proprio una licenza ma è una sorta di licenza, una sorta di dichiarazione di pubblico dominio, l'autore rinuncia ai diritti d'autore prima che siano passati i 70 anni. Cioè, passatemi la battuta, è come se io volessi rilasciare queste mie slide in un regime di pubblico dominio fin da subito, perché le voglio donare come patrimonio culturale dell'umanità, posso mettere questo cc0, cioè applico questa sorta di dichiarazione alla fine delle slide e quindi è come se io dichiarassi di essere morto da più di 70 anni. È una battuta ovviamente però per dire che l'effetto è quello, cioè l'autore rinuncia ai diritti come se fosse morto da più di 70 anni. Il caso che però più frequentemente entra in gioco è il caso B, quello di cui abbiamo parlato, cioè quando scadono i diritti. Però, ecco la parentesi che crea il thriller, cioè non è sempre facile da definire, perché se appunto, prima abbiamo fatto degli esempi, no, cioè se io devo utilizzare un brano di Danunzio, di Carducci, non è che ci sia tanta complicazione. Vado su Wikipedia, vado a vedere quando sono morti, calcolo 70 anni e so che li posso utilizzare. Ma se si tratta di opere un po' più di nicchia o un po' più complesse, dove ci sono tanti autori che partecipano, a volte non riesco a risalire a tutta questa informazione. Quindi questo fa sì che io poi abbia anche lavoro, nel senso che come avvocato spesso vengo incaricato dalle case editrici proprio per fare questo tipo di verifiche. Perché a volte non è semplice. Pensate a un'opera cinematografica. Un'opera cinematografica ha tanti autori, ha i produttori, poi c'è gli autori che sono a volte anche appunto musicisti, che fanno le musiche originali, sono l'autore del soggetto, della sceneggiatura, il regista e via dicendo. E quindi tu devi avere certezza che siano morti tutti e quattro, diciamo, da più di 70 anni. Per poter ritenere l'opera cinematografica davvero in pubblico dominio. Quindi pubblico dominio, detto così, sembra quasi una chimera, perché alla fine non è che sia così frequente. Sulle opere letterarie sì, sulle opere letterarie i grandi classici della letteratura possiamo ritenere che sono in pubblico dominio. Attenzione però alle traduzioni. Altra fregatura, possiamo dire. Questo vi serve proprio per la didattica a distanza, perché ho visto che in questi periodi di didattica a distanza una cosa cantata di gran moda sono state le letture di libri in pubblico, le letture di libri su YouTube. Magari erano libri appunto dell'Ottocento, del Novecento, del primo Novecento, quindi caduti probabilmente in pubblico dominio, però se le leggete in una traduzione di cinque anni fa, il traduttore, ahimè, ha i suoi diritti. C'è un diritto sulla traduzione e quindi si crea un problema. Poi, insomma, adesso non voglio farvi venire l'angoscia, no? Nel senso non è che vengono a prendervi, però magari vi segnalano il problema e dovete rimuoverla, ecco. Quindi, chiuso il discorso sul pubblico dominio, invece torniamo alla... Cioè, passiamo al lato blu, passiamo finalmente alle eccezioni, quindi al libero utilizzo, e ci occupiamo per questa prima parte, del libero utilizzo stabilito dalla legge. Vi ho selezionato, vedete, gli articoli erano tanti, perché da 65 a seguenti sono una ventina di articoli. Vi ho selezionato le libere utilizzazioni che entrano in gioco più spesso nell'ambito didattico e soprattutto nella didattica a distanza. Quindi libere utilizzazioni sono queste cose qui, più propriamente vengono chiamate eccezioni al diritto d'autore, perché in effetti creano una situazione di eccezione rispetto ad una regola generale che è il diritto d'autore, e sono casi in cui non è che il diritto d'autore viene meno, ocio, viene meno solo l'obbligo di chiedere il permesso. Cioè, casi specifici in cui un'opera ancora sotto copia ti si può utilizzare, ma senza dover chiedere il permesso. Si tratta idealmente di aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti da tutelare. Tra questi interessi più importanti c'è proprio l'esigenza di fare insegnamento, di fare didattica, di fare ricerca scientifica. Oppure vedremo il caso dei portatori di handicap che per poter fruire di un testo devono in qualche modo, fra virgolette, violare un po' il diritto d'autore. Quindi in questi casi l'ordinamento giuridico pensa che ci siano delle esigenze che passano sopra come priorità rispetto alla tutela del diritto d'autore, che invece è un diritto a favore sostanzialmente di un soggetto privato, di un autore e di una casa editrice. Uno è quello delle fotocopie. L'articolo 68 è un articolo molto lungo, io l'ho tagliato, però è molto complesso. I primi tre combi sono quelli che ci interessano di più. si occupa, vedete, delle fotocopie. Il primo comma parla di riproduzione fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio di diffusione dell'opera nel pubblico, che appunto è libera. Quindi quando uno si va a copiare sul quaderno pezzi di un'enciclopedia o di un libro preso in biblioteca, ecco, lo può fare perché c'è un articolo che lo autorizza. Voi direte, ma c'era davvero bisogno? Eh, boh, sì, c'era davvero bisogno, perché la trascrizione di un'opera è un diritto tutelato. Cioè, è articolo 13, no? L'avevamo visto prima, la trascrizione, quindi se voi trascrivete questa mia lezione dovete chiedermi il permesso. Se trascrivete il libro o un passo della Treccani dovete chiedere in teoria il permesso. Però se lo fate per uso personale ed è solo, riguarda solamente un brano, ed è fatta a mano e con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio di diffusione del pubblico, eccolo qui, che diventa libero. Secondo me vi interessa di più il comma 2 e il comma 3 perché è quello riferito alle fotocopie. Chiaro che se parliamo di didattica a distanza la fotocopia, insomma, interessa meno, ma in realtà anche la digitalizzazione, cioè il fare una foto a un libro è una, tecnicamente, una fotocopia. e vedete che qua parla di fotocopia, il comma 2 parla di fotocopia per i servizi interni, cioè di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o scolastiche, eccole qua, una in museo, negli archivi, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico, commerciale, diretto o indiretto. Quindi è una fotocopia che fate a livello, diciamo, a uso interno della scuola. Chiaro che quella è la fotocopia classica e nella didattica a distanza entra poco in gioco, forse ci può interessare di più il comma 3 che riguarda invece l'altra fotocopia, quella fatta dal cittadino, quella fatta dall'utente generico, ed è consentita, il famoso limite del 15%, ve lo ricordate, lo trovate spesso indicato nei libri, è consentita nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico escludendo le pagine pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno è effettuata mediante fotocopia, serocopia o sistema analogo. Eccolo qua. Cioè la digitalizzazione può essere in un certo senso assimilata alla fotocopia. È chiaro che devo rimanere nell'ambito del 15% e deve essersi dall'altra parte, cioè deve essere un sistema analogo, cioè non deve essere una pubblicazione su un server in cui chiunque può andare lì a prelevare, perché quello lì non è più analogo alla fotocopia, ma deve essere l'invio ad un soggetto specifico del file con il 15% del libro, in modo tale che lui se lo possa stampare o quantomeno riprodurre in altro modo. Quindi occhio, il famoso limite del 15% entra in gioco qua. L'altro, ecco, questo sicuramente invece entra in gioco nella didattica a distanza. L'articolo 70 riguarda, è diviso in, vi faccio vedere, vi anticipo, è 4 commi, comma 1, 1 bis, 2 e 3. Quando c'è 1 bis, no, vi deve venire in mente che c'è stata un'aggiunta successiva. Ed è bizzarro, perché queste norme, tutte quelle che vi sto leggendo adesso, sono del 2003, cioè la legge del 41, ma tutte queste sono state inserite nel 2003 perché le hanno riscritte tutte, infatti prima si chiamavano libere utilizzazioni, adesso le hanno chiamate eccezioni al diritto d'autore. E quindi non è che siano così vecchie, 2003, insomma, sì, è vero che il mondo è cambiato già, però non erano così anziane, nel 2007 però hanno richiesto già un'aggiunta, perché è successo qualcosa che vi racconto dopo. Allora, il comma 1 si riferisce a riassunto, citazione o riproduzione di brani e di parti di opera, e dice che, appunto, il riassunto, citazione o riproduzione di brani e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati, occhio alle varie diciamo, condizioni richieste, se effettuati per uso di critica o di discussione nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. vabbè, allora, se fate insegnamento, è chiaro, mi sembra abbastanza sottinteso che sia finalità illustrative, questo mi è sempre sembrato un po' ridondante, non è così scontato che sia per fini non commerciali, perché, vabbè, si può fare insegnamento anche in un contesto commerciale, no? Corsi di formazione che vengono venduti a decine di, a centinaia di euro e che generano business, e quindi, insomma, va trattato diversamente il caso vostro, cioè diciamo quello della scuola pubblica, che è sicuramente per fini non commerciali, da quello della formazione privata, della formazione rivolta alle aziende, business. Quindi questa è la norma che entra in gioco tutte le volte che facciamo le recensioni, facciamo un commento al libro, che facciamo un progetto in cui c'è da richiamare, insomma, la tesi di laurea o tesina dello studente in cui nel primo capitolo si fa lo stato dell'arte, quindi si vanno a prendere tutti gli autori principali che si sono occupati di quell'argomento e quindi si citano proprio dei brani. Ecco, in quel caso si può fare senza dover chiedere il permesso a diecimila case editrici, però deve essere, vedete, limitato all'uso di critica di discussione, cioè non deve essere un semplice collage di brani e deve essere nei limiti giustificati a tali fini e non entrare in concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera. Cioè bisogna evitare che questo collage sia così, che questa riproduzione sia così ampia e completa che alla fine diciamo ha come effetto quello che nessuno andrà più a comprare l'opera originale perché tanto trova già tutto nella nostra tesi o nella nostra recensione. Il coma 1 bis ve lo salto perché prima voglio farvi vedere com'era la norma del 2003 originale e la coma 2 parla di antologia ed uso scolastico insomma interessa solo chi, solo coloro tra voi che hanno partecipato alla realizzazione di un'antologia non ci interessa nell'ambito della didattica a distanza se siete interessati andate a leggere la norma e c'è un riferimento ad una norma esterna ad una norma di secondo livello il regolamento attuativo che spiega quanti pezzi di quante righe di opere di poesia o di prosa posso prendere senza dover incappare in una questione di diritto d'autore il coma 3 invece ci ricorda che il riassunto la citazione e la riproduzione debbano essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera dei nomi dell'autore dell'editore e del traduttore sempre ovviamente qualora queste informazioni figurino nell'opera riprodotta quindi questa norma tendenzialmente insomma viene insegnata fin dalle medie dalle superiori come buona prassi accademica cioè io utilizzo opere di altri devo citarle devo citare la fonte quindi è una buona prassi ma è anche una prassi cioè è anche un requisito giuridico cioè è richiesto dalla legge perché se io non cito violo il copyright perché non posso avvantaggiarmi della libertà che mi è stata concessa nel coma 1 capite il coma 1 bis finalmente ci arriviamo e così capite perché è stato inserito dopo è figlio di una come dire di un fatto di cronaca potremmo dire che andate a leggere se aprite questo link che riguarda un collega un vostro collega uno dei primi che ha fatto la didattica a distanza probabilmente inconsapevole nel senso che Homo Lycus è il nome di un sito web che esiste ancora adesso che in quegli anni nei primi anni 2000 era stato messo in rete da un docente di scuola superiore di scuola media o di scuola media inferiore o media superiore non mi ricordo però un docente che come dire per suo piacere intellettuale aveva creato un piccolo sito in cui condivideva i materiali che poi lui utilizzava a lezione è piccolo problema che mettere online intere scansioni di ad esempio quadri presi da libri di storia dell'arte che erano ancora tutelati come opere quadri del novecento Picasso Dalì Modigliani nomi del nostro del grande novecento che vengono studiati ormai come classici della storia dell'arte ma che sono ancora tutelati da parte del diritto d'autore e quello aveva generato un problema grosso di copyright perché lì non era più nell'ambito di una semplice attività didattica perché il sito web era accessibile a tutti era un normalissimo sito web tra l'altro fregatura per lui era stato utilizzato all'epoca uno di quegli spazi web che venivano dati nei primi anni 2000 se vi ricordate che cos'era internet nei primi anni 2000 venivano dati quegli spazi web gratuiti da parte di Virgilio da parte di Libero di Infostrada cioè per cui avevi un po' di spazio per mettere delle cose online e loro ci mettevano sopra una pubblicità che ovviamente non veniva in tasca a te gestore del sito ma andava in tasca al provider che ti offriva lo spazio web era un modo per loro per ripagarsi dello spazio gratuito che ti davano il problema è che così diventava pure uno sfruttamento commerciale perché c'era la pubblicità su quella roba e quindi è successo che questo professore di cui potete leggere la storia su vari articoli uno che l'ho messo lì ha subito una sanzione da parte di SIAE di 4700 euro che ripeto non era solo una sanzione ma in questi 4700 euro c'era anche proprio i diritti che lui avrebbe dovuto versare per l'utilizzo di tutte quelle immagini quei testi che aveva riprodotto senza pensare al problema del diritto d'autore ergo visto che questa questione aveva questa storia aveva un po' destato polemiche per il fatto che semplicemente lui non faceva una cosa così grave da un punto di vista morale insomma era un docente in scuola pubblica stava facendo un'attività di divulgazione culturale e quindi onde evitare che da lì in poi altri omolaicus altri casi omolaicus fossero emersi il legislatore ha detto vabbè creiamo una libera utilizzazione creiamo uno spazio di azione che permetta un minimo di elasticità su questo tema ed eccolo qua è stato scritto questo comma 1 bis è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzano sia scopo di lucro anche qua state molto attenti alle varie ai vari requisiti che vengono richiesti sono tutti cioè dobbiamo diciamo rispondere a tutti questi requisiti per poter avvantaggiarci del comma 1 bis del 70 comma 1 bis però ecco questa è un po' la norma della didattica a distanza potremmo dire la didattica a distanza prevede la pubblicazione attraverso internet di contenuti e deve essere fatto in questa in quest'ottica quindi a titolo gratuito e insomma mi sembra anche abbastanza scontato cioè non ci deve essere un pagamento per accedere a quel contenuto o a quel sito attenzione che deve riguardare solo immagini e musiche non si riferisce ai video ad esempio li ha lasciati fuori e non si riferisce ai testi nel senso che i testi rientrano comunque ancora nel comma 1 e quindi solamente riassunto citazione o riproduzione di brani o di parti quindi i testi integrali in teoria non possono comunque essere riprodotti e devono essere queste immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate due concetti davvero bizzarri perché molto relativi cioè bassa risoluzione non si capisce bene a che riferimento perché a quale riferimento si può si può richiamare perché bassa risoluzione è chiaro che è diversa dalla tecnologia applicata cioè nel 2007 la bassa risoluzione aveva una percezione oggi abbiamo un'altra percezione di bassa risoluzione tant'è che ormai insomma i video scusate i file mp3 che scarichiamo anche se sono compressi perché sono degli mp3 hanno una qualità sonora così alta per cui non si percepisce davvero la bassa risoluzione o degradate altra cosa bizzarra perché non si capisce bene che cosa intendesse su questa parola ci fu un'altra ironia perché insomma degradate boh in che senso devo devo fuscarla devo sporcarla devo metterci una barra in mezzo un nome in watermark in sfondo boh e dice che devono essere per uso didattico scientifico e solo nel caso in cui l'utilizzo non sia scopo di lucro quindi non solo che siano a titolo gratuito quindi non ci deve essere un pagamento ma non ci deve essere neanche uno scopo di lucro sottofondo e vabbè uso didattico scientifico mi sembra chiaro voi ci rientrate pienamente quindi non mi sembra di dover aggiungere è un po' più difficile lo scientifico nel senso che conosco fondazioni e enti di ricerca che sono a cavallo tra l'attività di lucro o meno anche se sono chiaramente degli enti di ricerca delle grandi fondazioni che fanno attività di ricerca però appunto in quanto fondazioni private a volte sono un po' borderline tra l'attività scientifica no profit e lo scopo di lucro altra cosa divertente di questa norma e chiudo è che rimanda a un decreto che non c'è cioè rimanda a un decreto del MIBAC MIBACT diremmo adesso che doveva precisare meglio che cosa cavolo era questo degradato e bassa risoluzione cioè doveva andarci dei dettagli interpretativi e applicativi il classico decreto attuativo si chiamano e non è mai arrivato nonostante questa norma sia del 2007 quindi di tempo ne hanno avuto per arrivare per fare un decreto probabilmente non hanno intenzione di farlo questo è un po' quello che ci stiamo la risposta che ci stiamo dando ormai da un po' di tempo perché di ministri ne sono passati tanti di ministri della cultura ciò nonostante nessuno ha mai preso si è preso la briga di fare questo decreto da un lato meglio così fatemi dire vuol dire che in mancanza del decreto abbiamo più margini di interpretazione di questa norma e possiamo magari stirarne la sua ampliarne la sua elasticità attraverso un'attività di esegese di interpretazione tipica degli avvocati ultima ah no non l'avevo messa perché oggi avevamo poco tempo però ve lo dico a voce appunto il comma 71 bis invece riguarda l'uso delle opere tutelate da parte dei soggetti portatori di handicap ho fatto un seminario recente la settimana scorsa per l'università Bicocca che è venuto molto bene chi fosse interessato chi avesse dei ragazzi che hanno particolari esigenze che possono essere di problemi visivi problemi uditivi problemi di DSA può andare a vedere questo video che trovate online sulla mia pagina Facebook ma poi ci sarà anche su YouTube vi darò i riferimenti e praticamente questa eccezione questo articolo 71 bis crea appunto dei margini di azione per soggetti che hanno un'esigenza proprio di disabilità e che obbliga loro a fare una modifica all'opera a intervenire sull'opera per poterne fruire il classico esempio è la trasformazione in audiolibro di un libro da parte di un non vedente o viceversa da parte di un non udente la trasformazione la sottotitolazione di un video sono tutte attività che in teoria sarebbero coperte dal diritto d'autore perché sono trasformative ma appunto in virtù di questo articolo 71 bis si liberano ehm Grazie a tutti